Cari amiche e cari amici, siamo a Reggio Emilia in compagnia di Luca Zaia, governatore del Veneto, che ci racconterà come funziona la sua regione. Io sono una notaia, sono emiliana e quindi come notaio vediamo il passaggio, siamo dei cancelli di legalità, per tutte le operazioni più importanti della vita delle persone e delle aziende. I trasferimenti immobiliari, le costituzioni di società, gli scioglimenti, le cessioni d'azienda. Ecco, nel nostro territorio c'è stato uno sfruttamento urbanistico forse un po' eccessivo. E come si può fare per rispettare meglio l'ambiente e tutelare anche il valore dei nostri immobili? Ma guardi, io le posso parlare dell'esperienza veneta. Siamo stati la prima regione in Italia, con il nostro governo, ad aver fatto una legge che è a consumo del suolo zero. Significa che in Veneto, con la legge a regime che è già approvata, chi demolisce avrà la cubatura per costruire, ma non ci saranno volumetrie accessorie nuove, quindi il consumo del suolo sarà zero. Questa è la vera direzione, questo ci permette di riqualificare le città, ci permette di riqualificare siti degradati, pensi all'archeologia industriale, recuperandoli con le nuove costruzioni. E questo si ricollega al rispetto dell'ambiente. Qui in Emilia, purtroppo, in pianura l'aria è irrespirabile. Questo dipende sicuramente dalla mobilità, ma anche da altri aspetti. Pensate che l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo, dopo gli Stati Uniti, ad approvare una legge sulle società benefit, che sono società a scopo di lucro, però che perseguono un fine ulteriore, che è quello, per esempio, del rispetto ambientale. Ecco, dovremmo promuovere molto di più lo sviluppo e la diffusione di questo tipo di società. Ma direi fondamentale, visto e considerato che il tema dell'ambiente non è più una prerogativa di alcuni ambienti, piuttosto che di chi è illuminato, ma è un sentimento ormai che è trasversale, coinvolge tutte le classi sociali, tutte le fasce d'età e tutti noi ormai abbiamo compreso che la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la qualità del contesto ambientale che ci circonda, significa per noi salubrità e ovviamente qualità della vita. Direi che questa è la vera direzione da imboccare e del resto, nei nostri territori, quando fai la raccolta differenziata, ti viene male mettere l'umido sul secco o viceversa. Questo vuol dire che culturalmente siamo già predisposti. Fra l'altro il mio Veneto ha tutti i comuni con dei tassi di raccolta differenziata che sono agli apici a livello internazionale. Infatti, sempre parlando di ambiente, parliamo dell'ambiente per le imprese. Un ambiente quindi in senso metaforico, che è fatto di burocrazia e di tassazione. Io raccolgo come notaio le lamentele delle nostre piccole e medie imprese, che sono l'ossatura sana della nostra economia. Ecco, bisognerebbe veramente intervenire perché la ricchezza si può ridistribuire se c'è qualcuno che la produce. Io direi una cosa, che noi abbiamo un grande vantaggio, che è quello di avere un tessuto industriale che non è fordista, ma è quello del distretto industriale dove ci sono molte piccole e medie imprese. Sono imprese molto flessibili. Penso anche che noi possiamo dire che i nostri contesti territoriali, parlo del Veneto, ma anche l'Emilia Romagna, sono contesti nei quali il rapporto datore di lavoro e lavoratore è un rapporto stretto. Non c'è conflitto di classe. Ovvio che il tema della ridistribuzione della redditività e il tema del coinvolgimento del territorio è fondamentale. L'impresa ormai è ben chiaro che non ha solo una missione economica, ma neanche una sociale. E questo è fondamentale. E anche un'attenzione andrebbe rivolta ai professionisti, che sono comunque dei prestatori di servizi importantissimi per la nostra società. I notai, per esempio, sono dei garanti di legalità che hanno fatto molto per aiutare anche la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia nelle esecuzioni immobiliari. Cosa ne pensa dei notai? Guardi, io penso che la nostra ossatura istituzionale e statale, con la presenza del garante, del notaio, sia stata anche una giusta salvaguardia rispetto a tutto quello che in altri paesi è accaduto e da noi fortunatamente non è accaduto. È un presidio di legalità, è un presidio di sicurezza e di certezza. Forse in un paese nel quale ormai la certezza del diritto è molto ipotetica, poco sicura, penso che il fronte notarile almeno questo ce lo garantisce, è un piccolo presidio o un grande presidio. Direi che io non faccio parte di quelli che dicono che bisogna eliminare i notai se vuol sapere questo, ma lo dico perché comunque fino ad ora la strada fatta assieme è stata una strada di legalità e soprattutto di difesa dei cittadini. È stato un percorso virtuoso perché siamo un esempio del principio di sussidiarietà, cioè una delega dello Stato di funzioni pubbliche gestita da altri con il rischio privato, quindi un'organizzazione di tipo privato. Io la ringrazio moltissimo di questo tempo. A presto. Grazie.